Buongiorno a tutti. È opportuno dirlo subito che alla nostra sensibilità la parola radici suona alquanto sospetta. È infatti una parola che sembra evocare qualcosa che ha a che fare con il sangue e il suolo, qualcosa quindi che non piace alla nostra mentalità democratica. La stessa cosa può dirsi dalla parola identità. Anche essa è una parola che sembra alludere a qualcosa di non modificabile, a qualcosa che più che includere esclude. Quindi parole entrambi poco adatte al lessico democratico. Io quindi rinuncerò a parlare di radici e di identità. Preferisco invece parlare di differenze. Anche se, come dirò poi dopo, la parola non è tanto facile disfarsi concettualmente e praticamente dalla parola identità. Nessuno potrà negare che tra l'Europa e tutto il contesto che le sta intorno, il resto del mondo possiamo dire, ci siano alcune differenze fondamentali. Dico l'Europa, ma potete dire naturalmente insieme all'Europa, gli Stati Uniti, l'Australia, tutti quei paesi che possono essere considerati delle semplici, da questo punto di vista, ben inteso, delle semplici proiezioni geografiche dell'Europa. Ci sono alcune differenze dell'ambiente in cui noi europei abbiamo passato, passiamo la maggior parte della nostra vita. Un contesto determinato appunto da queste differenze, il cui elenco traggo da uno storico polacco, Christophe Pognan, che è il direttore del comitato scientifico per l'appunto del Museo dell'Europa a Bruxelles. Ecco l'elenco di queste sette differenze ambientali che caratterizzano il contesto europeo rispetto a tutti gli altri contesti mondiali. Sono differenze innanzitutto di carattere sonoro, visivo, come sentirete. Il primo, infatti, è la presenza di croci. Nell'ambiente europeo ci sono, nelle strade, nelle piazze, talvolta perfino negli otto di campagna, un gran numero di questo elemento particolare, che sono le croci. Seconda differenza è un particolare tipo di architettura e di urbanistica che ha al suo centro la piazza, un'invenzione tipica nella sua configurazione con i palazzi di città alla cattedrale, una configurazione urbanistica tipica del contesto europeo. Terzo elemento di differenziante molto importante è un alfabeto che, pur presentandosi con alcune varianti al proprio interno, l'alfabeto cirillico, l'alfabeto latino, però è totalmente diverso dalla scrittura ideografica cinese e da altri tipi di alfabeto. La quarta differenza consiste nella densità delle immagini. La cultura europea è, per così dire, una cultura iconica. Ci sono moltissime immagini nell'ambiente europeo, dentro e fuori le case, nelle città, nelle strade, nelle piazze. E, ulteriore differenza, queste immagini hanno spessissimo, a differenza di altri tipi di immagini in altri contesti, la figura umana al proprio centro. Raffigurano, appunto, la figura umana sia maschile che femminile. Sesta differenza, una differenza sonora, il suono delle campane. E, infine, settima differenza illustrata da Pomian, la presenza nel contesto europeo di vestigie dell'antichità, vestigie greche, romane o medievali, sotto forma di edifici che spesso sono ancora oggi in piedi, ovvero, come sappiamo, di rovine. L'insieme di questi elementi che ho elencato si trova esclusivamente in Europa. E soltanto in Europa si incontrano alcuni caratteri che risultano appieno proprio nel confronto con altre culture nostre vicine. Per esempio, soltanto in Europa c'è un'organizzazione del tempo fondato su una settimana con la domenica come giorno festivo. Il fatto che poi questa caratteristica sia stata adottata per comodità e per ragioni della supremazia storica dell'Europa, anche in altre parti del mondo, non vuol dire che qui ci sia appunto il cuore di questa istituzione della settimana, così come solo in Europa si festeggiano ovviamente alcune ricorrenze come il Natale e la Pasqua, che richiamano immediatamente tutta l'Europa, tutto il contesto europeo, alle sue radici ebraico-cristiane. Così come tutta l'Europa condivide una tradizione letteraria, una tradizione culturale, una tradizione delle arti visive, ma non solo. Tutta l'Europa condivide anche una medesima tradizione di dottrine politiche, di norme legali di fondo, condivide l'assenza di qualunque interdetto alimentare. E oggi, infine, una importante differenza dell'Europa rispetto a tutto il resto del mondo è la città, che in questo caso significa due cose, sia la separazione della politica dalla religione, e la separazione della cittadinanza da qualsiasi adesione confessionale, e sia, rappresenta infine, un'altra cosa importantissima, cioè uno specifico statuto delle donne. Le leggi europee, cito da Pomian, le leggi europee non riconoscono che il matrimonio monogamico. Le donne non sono chiuse in ginecei o in harem, non sono obbligate a nascondere il loro volto e i loro capelli. E ciò che più conta, hanno sempre avuto un ruolo di primo piano nella vita culturale e politica. L'Europa, peraltro, appunto, che ha tutte queste differenze del resto del mondo, ha moltissime differenze, come sappiamo, anche al proprio interno. Tra la parte occidentale e la parte orientale, tra l'occidente, diciamo così, latino e quello greco-ortodosso, una differenza che poi si esprime in moltissimi altri aspetti. Oriente e l'occidente dell'Europa sono due mondi e non bisogna mai dimenticare il lungo problema che ha avuto l'Europa orientale di essere costantemente per secoli sotto una minaccia straniera, che era la minaccia dei mongoli, dei tartari, dei turchi. E da questa Europa delle differenze, proprio perché Europa delle differenze non ha mai conosciuto grandi unità imperiali, che è nata quella particolare creatura storica che è lo Stato. È il sistema europeo degli Stati. Stati diversi, rivali tra loro, tuttavia questa rivalità non è mai riuscita a rompere un collante di fondo tra questi Stati, rappresentata dall'originaria unità culturale che esisteva tra di loro e che si è poi manifestata in due dimensioni tipiche della storia europea, che è lo Ius Gentium, l'antenato in qualche modo del diritto internazionale, e il concetto dell'equilibrio delle potenze. Questa unità sostanziale dell'Europa si è poi infine manifestata in una importantissima non istituzione, diciamo in una dimensione che è stata quella dell'unità della cultura, dell'internazionale dei dotti, dei sapienti, che hanno dischiuso all'Europa la via della modernità, dell'illuminismo, della rivoluzione scientifica e quindi poi della rivoluzione industriale che ha rappresentato l'ultimo, in qualche modo storicamente parlando, grande momento di collante di Unione che all'opera da 250 anni in fin dei conti, diciamo così ancora oggi funziona come un collante decisivo tra i paesi europei. Oggi io credo più che mai pensare l'Europa, pensare le radici dell'Europa, ci deve obbligare a pensare che cosa ha rappresentato per noi europei lo Stato. Gli Stati sono sempre esistiti in molte parti del pianeta, solo in Europa però per una straordinaria concatenazione di vicende l'unione dello Stato con la nazione ha formato lo Stato nazionale, il cui senso credo sarebbe sbagliato ridurre agli orrori, alle vicende terribili che pure hanno costellato il Novecento. Lo Stato nazionale è stato la fonte di alcune novità decisive per lo sviluppo di tutte le nostre società. Lo Stato nazionale ha voluto dire innanzitutto la fine della secolare contrapposizione tra la cultura dell'elite, da un lato che quasi sempre è una cultura di natura aristocratico, cosmopolita, tendenzialmente secolarizzata, aperta alle novità, e dall'altro invece la cultura delle masse popolari, intrisa di localismo, di religiosità legata alle tradizioni. Lo Stato nazionale ha rappresentato uno straordinario caso storico di incontro fra l'alto e il basso della società, all'insegna di una nuova auto-identificazione culturale, un'auto-identificazione sollecitata e resa possibile da un fattore chiave che è l'esistenza di una lingua comune e l'esistenza di produzioni letterarie, artistiche in questa lingua. E dal fatto che lo Stato nazionale ha istituito per la prima volta nella storia la scuola, l'obbligo scolastico, proprio per rafforzare questi elementi di unità culturale che hanno portato poi alla nascita di un demos comune, di un popolo comune. Tutto ciò, questa straordinaria opera di unificazione culturale, ha prodotto un grandioso risveglio di energie ideali e materiali, anche una reazione a catena di conflitti, di novità istituzionali, di speranze di emancipazione, che sono state però un alimento vitale assolutamente decisivo per la storia delle nostre società. Anche la democrazia politica deve la sua esistenza in buona parte allo Stato nazionale. L'idea di sovranità popolare infatti non è altro che un proseguo dell'idea di sovranità nazionale e senza le potenzialità espansive contenute nell'idea di sovranità nazionale, che dal suffraggio universale conduce inevitabilmente, dal suffraggio censitario conduce necessariamente al suffraggio universale, senza l'idea di sovranità nazionale anche l'idea di sovranità popolare, quindi il suffraggio universale, non avrebbero potuto esistere. Peraltro anche la pratica concreta della democrazia ha bisogno, si alimenta dell'esistenza di questo spazio particolare che è lo spazio dello Stato nazionale e della sua cittadinanza. Non è un caso che tanto spesso nella storia dell'Europa le lotte per l'indipendenza nazionale, la lotta per le libertà individuali sono andate di pari passo. Io credo che se si vuole stare sul terreno concreto dei fatti e non nel cielo delle idee, bisogna ammettere che per vivere l'idea democratica non può fare a meno di radicarsi in una territorialità, in un territorio di tipo nazionale-statale. Perché all'interno di questo territorio la comunicazione avviene ovviamente in modo facile e naturale per via della lingua comune, che è un elemento fondamentale della democrazia, è impensabile senza la possibilità di comunicare e anche perché se la democrazia pone al proprio centro, come giusto, tra i propri valori, la fraternità, la solidarietà, questo sentimento di fraternità e di solidarietà, dal momento che gli esseri umani sono quello che sono, non può che nascere appunto all'interno di una comunità delimitata. Non ci può essere, io credo è molto difficile immaginare un sentimento indistinto di solidarietà, di fraternità verso l'umanità in generale. Laddove appunto la fraternità, la solidarietà si alimenta di un sentimento, di un sentire, quindi di qualcosa che è radicato, diciamo così, nella emotività, questo non può che, diciamo così, tirare in ballo appunto qualche cosa di comune, l'appartenenza ad una comunità. Anche, diciamo così, il mettere insieme le risorse richiede, così come fatto preliminare, l'esistenza di questo sentimento di solidarietà nato dal comune appartenenza a qualche cosa che è appunto la comunità nazionale. È difficile immaginare che qualcuno sarebbe mai disposto a pagare le tasse, sapendo che l'oro ricavato serva genericamente all'umanità. Almeno da due secoli a questa parte, quindi, in misura maggiore o minore, milioni e milioni di europei hanno condiviso l'esperienza riassunta in tutto quello che ho detto finora riguardante lo Stato nazionale e non solo. La vita materiale, il mondo spirituale e culturale degli europei, la pratica delle istituzioni e della politica, il loro immaginario tutto, insomma, mi sembra, ha parlato dello Stato nazionale. Mi chiedo come sia possibile non tenerne conto. È però a questo punto che il discorso sulle radici, sull'identità, si complica. È a questo punto infatti che il discorso passa dall'ambito della storia, delle differenze tra l'Europa e gli altri luoghi, fondato sull'esistenza, come ho ricordato, di alcuni materiali fatti concreti. Il discorso passa da questo ambito, diciamo così, molto concreto, storico, ad un ambito invece diverso, ad un ambito immateriale, dove con il trascorrere del tempo, appunto, un deposito secolare di vissuto collettivo ha dato vita a una costruzione emotiva, a quella che si chiama una memoria, carica di valore sentimentale. L'identità europea di cui ci riesce oggi così difficile parlare, di cui oggi riesce così difficile alla politica parlare, l'identità europea, dicevo, è intimamente legata a questa lunga durata della memoria, di una memoria secolare, formatasi intorno alle differenze di cui parlavo all'inizio, seppur articolata nelle specificità dei diversi casi nazionali. Il punto chiave politicamente caldo è che questa identità, che è un prodotto del passato, è però al tempo stesso anche un lascito, cioè qualcosa che abbiamo ricevuto dal passato, dai nostri predecessori, e che intendiamo in qualche misura lasciare ai nostri successori. È precisamente questa propensione tipica dell'identità a permanere e a proiettarsi dal passato verso il futuro che ha trasformato il tema delle radici da un fatto eminentemente storico-culturale in un fatto politico, un fatto politico dirompente per la costruzione europea, dal momento che questa costruzione, la costruzione politica dell'Europa, ha preso le mosse dall'idea che invece il passato europeo fosse in un certo senso morto. La costruzione europea infatti ha avuto inizio immediatamente dopo la guerra, sullo sfondo di un panorama di radici sotto le quali sembrava che anche lo Stato nazionale fosse sepolto. E spesso poi la storia di quello che era accaduto nei decenni immediatamente precedenti autorizzava l'idea che queste radici fossero radici del male. Non era così. Lo Stato nazionale però non era morto, anche se chi lo ha pensato allora, fondando l'Europa, ha commesso un errore, così come ha commesso un errore l'europeismo, io credo, quando per tanti anni ha creduto che la migliore giustificazione della propria ragion d'essere passasse attraverso la delegittimazione dello Stato nazionale, che la migliore giustificazione della propria ragion d'essere fosse proclamare continuamente l'inattualità e quasi la superfluità di tale Stato. La costruzione politica europea, tutta rivolta, come sappiamo, ad una meta sovranazionale, che peraltro poi si collocava in un futuro sempre più lontano e indistinto, questa costruzione, dicevo, si è trovata, per queste ragioni, a soffrire dell'assenza di una politica dell'identità rivolta al passato. L'Unione non si è affatto curata di darsi una politica capace di tematizzare e di valorizzare le radici comuni dell'intero continente in funzione della costruzione della propria identità. Non ha pensato a elaborare una politica che tenesse conto delle declinazioni e delle articolazioni particolari di queste radici e del legame di queste radici con il presente e con il futuro, naturalmente, dell'Unione. Il progetto e la pratica europeistica hanno avuto paura che tutto ciò significasse una sottolineatura pericolosa della diversità dell'Europa rispetto agli altri e che una diversità che potesse essere considerata dai non europei una riaffermazione arrogante del primato, della volontà di primato dell'Europa. L'Europa, che peraltro è pronta in ogni occasione a tessere l'elogio delle differenze quando queste differenze riguardano gli altri, si è in certo senso vergognata delle proprie differenze. Così però essa ha dimenticato che nulla di ciò che è nuovo può vivere se non è in grado di rifarsi a qualche cosa di antico. L'Europa ha deciso, ha scelto di presentarsi sì con il volto di un suo retaggio, di un suo patrimonio che veniva dal passato, ma del suo patrimonio più astratto universale, collocato direi fuori dal tempo e dello spazio, e cioè ha scelto di collocare la propria identità essenzialmente nel firmamento dei grandi principi, la giustizia, i diritti dell'uomo, la pace, rivolti indistintamente a tutti e quindi per loro natura necessariamente principi astratti, orientati esclusivamente al presente e al futuro. L'Europa è stata convinta che poi per tutto il resto bastassero i fatti, i suoi successi, i suoi indubbi successi, a parlare a suo favore. Il problema è che i fatti in politica non bastano. In politica i fatti vanno sempre accompagnati con il cuore, con l'anima. L'Europa ha dimenticato, forse non ha mai conosciuto, l'ammonimento di un grande spirito europeo, Stefan Zweig, che negli anni tra le due guerre, proprio meditando sul modo del continente di assicurare una propria unità, di assicurare un progetto europeistico, Zweig, dicevo appunto, ammoniva che innanzitutto, prima che ha la ragione, bisognasse parlare al sentimento popolare. Infatti, scriveva, se non si parla al cuore e al sangue degli europei, la battaglia contro i nazionalismi sarà inevitabilmente persa, dal momento che, sono sempre parole Zweig, mai nella storia il cambiamento è venuto dalla sola sfera intellettuale o dalla sola riflessione. L'Europa, invece, mi avvio a concludere, o meglio, le sue troppo timide e ignare élite politiche, rifiutando il tema delle proprie radici storico-culturali, addirittura che lo stesso, non riuscendo a dire quali fossero queste radici, non riuscendo a trovare un accordo su quali fossero queste radici, l'Europa ha finito per credere che per esistere storicamente e politicamente, per radicarsi presso i propri cittadini bastassero, come dicevo, i grandi principi, i vantaggi concreti anche assicurati dall'Unione. Ma nessun corpo politico è stato tenuto insieme mai da queste cose, solo da queste cose, è stato sempre tenuto insieme dalle cose che, come diceva Zweig, parlano al sangue e al cuore, cioè proprio da quelle cose che l'Europa ha creduto che invece dovessero essere lasciate da parte, che anzi addirittura dovessero essere stigmatizzate come fissazioni identitarie e quindi condannate in quanto ideologicamente sospette. Il risultato, finisco, è sotto gli occhi di tutti. È il risultato degli echi critici che oggi ormai risuonano dappertutto, dall'Italia alla Gran Bretagna, dalla Francia alla Polonia, obbligandoci a prendere atto che per la grande massa degli europei la presenza del passato, dei passati nazionali, è molto più ampio e importante di quanto le istituzioni europee non siano state finora disposte a credere. E quindi obbligandoci a prendere atto che il tema delle radici non può essere eluso così facilmente, non già per diventare lo sterile campo di battaglia tra opposti schieramenti e neppure per fare delle radici europee il motivo di qualche arrogante vanteria o di qualche discriminazione. Bensì perché se, come dicevo, qualcosa deve nascere e potrà nascere con il nome dell'Europa, se il destino riserva un questo futuro al nostro continente, allora questo destino possa sorgere e svolgersi anziché sul vuoto, sull'ascito vuoto, del vuoto sulla storia e in ciò trovare insieme alla propria piena legittimazione anche la premessa del suo compimento. Grazie.